No, Green Pass a Roma, ieri 20 novembre 2021, sabato, in 4.000 circa si sono ritrovati, si sono radunati al circo massimo senza la mascherina né volto, proteste per le strade di Roma, il nuovo sit-in organizzato proprio da Rovax, 4.000 persone circa, secondo i dati raccolti dalla questura di Roma, si sono radunati proprio dal circo massimo a grido di la libertà, la libertà, la libertà, e tutti stavano senza la mascherina addosso, i slogan diventati ormai familiari e che tutti conoscono molto molto bene. Insomma, il circo massimo era a pregno, era pieno di persone e a grido di libertà, libertà, e senza mascherina chiedevano di ricevere, o meglio chiedono di ricevere più libertà e di non andare girando con la mascherina, perché secondo i presenti la mascherina è una forma di limitazione totale e completa della libertà individuale degli esseri umani. E ripeto che in 4.000 ieri erano presente al circo massimo. Per dire basta all'uso della mascherina, lasciateci di vedere. Il video termina qua, iscrivetevi al canale, narratore italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto regalo, al prossimo video.